Una candidatura necessaria per portare avanti i progetti di sviluppo del nostro territorio. Franco Loconte, nella sua città a Riano Irpino, spiega il motivo dell'impegno per le politiche del 4 marzo. Inizialmente in corsa come capolista nel proporzionale alla Camera, Loconte è stato costretto a lasciare il primo posto ad Alfonsina Cornacchia per consentire al partito di non violare le norme sull'alternanza di genere. Ma la sua strategia elettorale non cambia, anzi il segretario nazionale di Noi con l'Italia, Lorenzo Cesa, con un messaggio letto dall'onorevole Giuseppe Gargani, annuncia di voler chiudere la campagna elettorale nella città del Tricolle e si assume l'impegno di riconoscere, in caso di vittoria del centrodestra, un ruolo significativo per Loconte. L'ipotesi è l'incarico di sottosegretario, probabilmente in linea con l'impegno di sempre del candidato arianese, ovvero il settore della caccia e della pesca. Di fianco a Loconte, il sindaco e il presidente della provincia, in quota Forza Italia, Domenico Gambacorta, che pubblicamente invita il consigliere comunale di maggioranza ad andare avanti e a lavorare nell'interesse del territorio e della coalizione di centrodestra. A parte qualche provvedimento più populista che popolare, i governi che si sono succeduti non hanno garantito, soprattutto al mezzogiorno d'Italia, di uscire dalla crisi. La crisi è stata enorme, i giovani continuano ad andare via, la disoccupazione in tutte le regioni del mezzogiorno è una disoccupazione fortissima, il prodotto interno lordo non cresce, gli enti locali sono in difficoltà dappertutto, per via anche di una legge, la legge del Rio, varata dal Parlamento nel 2014, che voleva riformare le province in modo particolare, ma che con le leggi di stabilità ha continuato a alleggerire le possibilità che le province hanno, i comuni hanno, di investire nelle scuole, nelle strade, nelle infrastrutture, in quelle che in qualche modo garantiscono la qualità della vita ai cittadini. In prima fila l'altra candidata per l'uninominale alla Camera, espressione del Tricolle, Maria Carmela Grasso, è significativa anche la presenza dell'ex consigliere regionale Ettore Zecchino, quindi un centrodestra arianese che si ricompatta e che fa squadra. Voi eleggerete Carmela Grasso, deputato della Repubblica, eleggerete Alfonsina Cornacchia, perché noi il quasiente lo piglieremo, deputato della Repubblica, e potete eleggere Franco Loconte nel governo dell'Italia. Grazie. 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 Grazie.